Grazie a Donadoni che sta ripassando le parti, un saluto al nostro pubblico di Periscope ce lo fa? Sì certo, oggi è un pomeriggio bellissimo, riesco a lavorare di nuovo con i bambini dopo tanti anni di teatro per loro, sono emozionata e sarà una bellissima festa. Grazie mille, la lasciamo ripassare. Grazie a tutti.